Dopo trent'anni di latitanza è stato arrestato il boss Messina De Naro. Complimenti alla magistratura e alle forze dell'ordine per il grande lavoro realizzato e ai carabinieri per aver effettuato questo arresto. Oggi è il giorno dei complimenti alle forze dell'ordine, ma il Governo e il Parlamento hanno in assoluto un dovere. Dobbiamo cambiare quella parte della cosiddetta riforma cartabia che addirittura sta consentendo ai mafiosi di evitare i processi. Dobbiamo fare in modo che la soddisfazione per questo grande risultato non sia ipocrita e quindi che si rafforzino le misure antimafia, così come hanno sempre chiesto persone autorevoli come l'ex capo della procura antimafia Caffiero De Rao o l'ex procuratore Scarpinato e altri parlamentari che stanno insistendo per norme rigorose contro la mafia. Questo è il modo migliore per fare i complimenti ai carabinieri, alla magistratura e alle forze dell'ordine. Grazie a tutti!